Sono circa una quindicina i lavoratori che questa mattina hanno incrociato le braccia per protestare contro il taglio dell'orario di lavoro di circa 1300 ore mensili. Si tratta dell'appalto delle pulizie dei treni della ferrotranviaria, affidato a due società in associazione temporanea di impresa, MAPIE e Mr. T, e questa mattina l'appuntamento assieme ai sindacati è stato fissato in viale Corigliano a Bari, dove ha a sede la Task Force per l'occupazione della regione Puglia. C'è stato un taglio di 1300 ore mensili che riguarda 15 lavoratori impiegati presso l'appalto delle pulizie della ferrotranviaria Bari Nord, che ha coinvolto 15 persone, 15 persone delle quali noi non conosciamo attualmente il motivo e quali sono stati i criteri che hanno coinvolto queste persone in questo taglio, che sono per lo più famiglie monoreddito, quindi sono anche lavoratori part time e vivono un disagio non indifferente. Per concludere, dico anche una cosa, che loro ora lavorano solo due ore a fronte delle cinque che svolgevano precedentemente al taglio delle ore, e molto spesso per affrontare la trasferta, faccio un esempio, da Trani a Ruvo di Puglia, fra andate e ritorno con un mezzo privato 50 km, queste due ore a malapena riescono a coprire i costi della trasferta. La situazione è naturalmente cambiata da quel maledetto 12 luglio 2016, quando la tragedia sulla tratta della ferrovia Bari Nord tra Corato e Andria ha cambiato il volto del territorio, di tante famiglie e di diversi lavoratori. Le corse sono notevolmente diminuite, soprattutto nella tratta tra Barletta e Corato, e di conseguenza anche i servizi di pulizia, per esempio, hanno subito un pesante taglio di ore per 15 dei 33 dipendenti. Purtroppo noi al tavolo istituzionale abbiamo tante volte espresso e dichiarato la volontà di avere un confronto con la società che ha sempre rifiutato, non si sono presentati alla task force, non si sono presentati in prefettura, preferiscono attuare queste delibere arbitrariamente e unilateralmente senza prendere in considerazione quelle che sono le difficoltà dei lavoratori che a malapena riescono a tirare avanti. Non per niente abbiamo segnato sullo striscione, no ai tagli da fame. Trattative in fase di stallo, come ricordano i sindacati, ed in particolare le segreterie Fisaskat-Cisl-Bari, Filcams-CGL-Bari e Filcams-CGL-Bat, e richiesta alle istituzioni ed in particolare proprio alla task force per l'occupazione, sede della protesta, di riprendere le trattative per risolvere questa delicata vertenza.